Nel prossimo servizio invece ci occupiamo di imprenditoria femminile. Si chiama Una montagna di talento, il nuovo progetto elaborato dal Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio. Un percorso che vede impegnati le imprenditrici del territorio con l'obiettivo di valorizzare le ricchezze territoriali ma anche di consolidare le pratiche di una cooperazione attiva. Il tutto nel quadro di un orizzonte provinciale che a settembre 2022 contava 6.275 imprese femminili, pari al 21,6% delle imprese totali. 1.233 sono quelle artigiane, operanti principalmente nel settore manifatturiero, 867 quelle guidate da straniere e 587 quelle giovanili. Il focus del Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile questa volta si è spostato sull'area interna, quindi sulle imprenditrici che si trovano all'interno delle nostre meravigliosi valli, Val Darda, Valtidone, Val Nure e Val Trebbia. L'obiettivo del progetto è quello di valorizzare proprio i talenti femminili che si trovano all'interno delle valli, consentire di facilitare la rete soprattutto per accrescere il proprio valore e accrescere il valore della valle di riferimento. Questi progetti si realizzeranno all'interno di un comune selezionato per valle e avverranno proprio in loco. Il percorso è rivolto alle imprenditrici femminili, alle imprenditrici a conduzione femminile, alle libere professioniste, ma anche a tutte le associazioni, enti ed organizzazioni che in qualche modo vogliono contribuire a un progetto di sviluppo delle nostre valli.